Commento alla politica di Aristotele di Sant'Ommaso d'Aquino, capitolo undicesimo. In questo capitolo, entrando sempre più a fondo di quella che è la politica aristotelica, e andando a concludere anche il primo libro secondo la suddivisione che la Quinate ne fa, giungiamo a parlare finalmente di educazione e famiglia. Allora, Aristotele nel suo testo, in quello che era un brevissimo brano, peraltro con cui si conclude appunto il primo libro, va ad allargare quello che è il problema della virtù in relazione all'educazione e a quello che deve essere il comportamento virtuoso, secondo la rete greca, la virtù greca. E dice Aristotele, siccome nessuno nasce calzolaio, conia in un certo senso questo proverbio, contempla anche quella che è la necessità di ammaestrare gli artigiani e i salariati. E allora Aristotele prende anche una netta posizione contro coloro che considerano gli schiavi privi di ragione. E quindi precisa che non bisogna limitarsi a impartire loro degli ordini, ma occorre ammonirli. E ammonirli nel senso originario, nell'etimologia del termine, significa dare loro dei motivi, delle ragioni. E qui dimostra ovviamente un grandissimo senso pratico, perché sottolinea il ruolo politico che di fatto assumono le donne e i ragazzi, le donne in quanto rappresentano la metà numerica delle componenti della città, e i ragazzi, i giovani, che invece sono i politici del domani, e i cittadini della polis, che si stanno formando. È scontato che l'educazione di cui si parla deve essere in sintonia con il regime politico vigente, questo Aristotele lo dice con chiarezza, di conseguenza vedremo che l'argomento va trattato anche nell'ambito delle varie forme di governo. Che cosa che poi farà nel secondo libro. Tommaso cosa dirà? Tommaso fa un'analisi neanche troppo corta in realtà rispetto invece alla brevità del testo aristotelico originale, e considera molto efficace l'esempio del fabbro e del calzolaio che Aristotele fa, e lo riprende anche spesso. La razionalità poi di cui lo schiavo è dotato viene messa anche in bella luce da Tommaso, che come ben sappiamo era molto distante ovviamente dal pensiero aristotelico puro, quindi anche per quello che era il valore della persona, la dignità umana, cioè ovviamente tutta la scorta della filosofia e della teologia cristiana, della sua concezione della persona e del valore ontologico della persona. Addirittura Tommaso vedremo che dirà che il padrone ha un obbligo di impartire una vera e propria istruzione, di docere, e nel contesto questo termine richiama quello anche più tecnico di invece consigliare, che è una parte potenziale della virtù della prudenza, dice Tommaso. Forse peraltro il termine più idoneo alla traduzione italiana sarebbe formare in chiave pedagogica, ma in realtà è anche un po' distante dalla lettura del testo. Tommaso integra felicemente il dovere aristotelico di istruire lo schiavo, precisando che tale opera deve essere avvolgente e stimolante, cioè deve essere scandita equamente da premi e da castighi. Aristotele accenna di sfuggita allo stare insieme, inteso come le conversazioni familiari, la convivialità. E molti studiosi peraltro hanno accusato lo stagirita di ignorare la famiglia, perché per lui la pedagogia è una funzione pertinente esclusivamente alla politica, dunque alla polis. Di fatto però la tradizione medievale e le sue traduzioni avevano reso la locuzione aristotelica con il termine omelia, che richiama appunto l'ambito ecclesiastico, no? E questa semplice operazione erissicale ha offerto lo spunto, più a Tommaso che ad Alberto Magno, suo maestro, di sottolineare l'importanza di quello che noi oggi chiamiamo il dialogo all'interno della vita domestica. Ma scendendo direttamente nel testo vediamo la prima divisione. In primo luogo, sempre nella sua triplice ripartizione di ogni analisi che Tommaso fa, va a sollevare quello che è il problema originato dalla soluzione che aveva fornito su quelli che potevano essere i problemi inerenti alla virtù del capo e dei sudditi affrontati nel decimo capitolo. E anche qui risolleva il problema e cerca di darne una soluzione, enunciando poi anche quello che è il corollario della risoluzione data. e parla anzitutto di quella che è la virtù dell'artigiano. Sul testo originale siamo al numero 1260 A36 e dice che il problema nasce dalla risposta precedentemente data, che è, se è vero che lo schiavo serve e lui deve avere una qualche virtù, perché per evitare che per intemperanza o per paura venga meno ai suoi compiti, per ugual motivo sembrerà logico, scrive Tommaso, che anche gli artigiani, per essere buoni artigiani, debbano possedere una qualche virtù. Del resto succede spesso che gli artigiani, per intemperanza o per altri vizi, compiano male i loro lavori, per esempio che per negligenza vadano in giro facendo altro. E allora da questo primo esempio fornisce una soluzione al problema. e due sono le argomentazioni a soffragio di tale asserzione. Dice che c'è una differenza notevole tra lo schiavo e l'artigiano. In primo luogo parte dalla constatazione che lo schiavo, proprio perché è schiavo, in una certa misura è partecipe dell'esistenza, cioè nella convivenza umana. Abbiamo infatti visto come lo schiavo rappresenta uno strumento nell'ambito dell'azione, cioè della convivenza degli uomini. E di conseguenza, poiché le virtù morali perfezionano la persona nella convivenza umana, si esige che lo schiavo, per essere buono, partecipi in qualche misura della virtù morale. Vede poi che il lavoro dell'artigiano è produttivo, perché è l'artigiano che opera più lontano dalla convivenza familiare, strettamente parlando, appunto fa un lavoro esterno nella sua bottega, in quanto tale non concerne il complesso delle azioni di cui è intessuta l'umana esistenza, ma determinati oggetti che vengono prodotti con la tecnica e sono chiamati cose realizzabili. È così, scrive Tommaso, che di qualcuno si dice che è un buon artigiano, per esempio un buon fabbro, per il fatto che conosce l'arte di fabbricare dei buoni coltelli, anche se poi egli fa un uso cattivo negligente di questa abilità tecnica. Con ciò, tuttavia, rimane vero che l'artigiano trasfonde la sua virtù nel lavoro che compie nella misura in cui si pone a servizio della convivenza umana. Per esempio, vediamo che alcuni artigiani, come i banausi, cioè i salariati, cui appartengono i cuochi, sono oggetti a una certa forma di schiavitù, in quanto vengono incaricati di prestazioni specializzate e svolgono un servizio. Per far questo, si richiede in essi la virtù morale affinché possano svolgere le loro mansioni nel modo dovuto. Dunque, fatta questa distinzione, va ad approfondire meglio quello che bisogna fare con lo schiavo. Dice che con lo schiavo bisogna ragionare. Qui la seconda argomentazione. Lo schiavo appartiene agli esseri forniti dalla natura, e del resto abbiamo già visto che alcuni uomini sono schiavi per natura, sosteneva Aristotele. E al contrario, nessun calzolaio in artigiano di altro genere è tale per natura, poiché tutte le arti sono state escogitate dall'intelligenza. Ora, la virtù è in relazione a ciò che ci viene fornito per natura. Lo scriveva anche sempre Aristotele nel Libro dell'Etica, capitolo 2. E portiamo, quindi, in noi un'inclinazione naturale alla virtù. Dunque, è evidente che per essere un buono schiavo occorre che cosa? La virtù morale, la quale invece non è necessaria affinché un individuo sia un buon artigiano. Quindi, il padrone cosa deve fare? Insegnare la virtù allo schiavo. Aristotele inferisce un corollario che fluisce da quanto ha detto. È stato acquisito che lo schiavo ha bisogno della virtù, ma l'uomo, avendo quella che è una inclinazione naturale alla virtù, deve raggiungerla grazie alle direttive di qualcuno che lo guidi. Così come i cittadini devono diventare virtuosi per opera del legislatore. Anche questo sempre tratto dal secondo libro dell'etica. E ciò rende evidente che sta al padrone suscitare nello schiavo la virtù che si esige da lui, dandogli che cosa? Le debite e istruzioni su come deve agire, castigandolo dove sbaglia e premiandolo quando fa bene. In definitiva, quindi, Aristotele sosteneva che gli schiavi vanno, di fatto, istruiti. Conciò tuttavia, attenzione, non si vuole dire che il padrone debba possedere una scienza dispotica, fa notare Tommaso, vale a dire padronale, in base alla quale insegna lo schiavo i suoi lavori servili. Ma deve, sottolinea sempre la quinate, istruire lo schiavo sul modo di comportarsi affinché sia temperante, umile e paziente e simili. Alla luce di queste considerazioni, sbagliano quanti e sostengono che con lo schiavo non occorra far ricorso alla ragione, ma sia sufficiente limitarsi a impartirgli degli ordini. Qui vediamo, no, che Tommaso sottolinea che bisogna munire i schiavi, in quanto costoro non sono capaci di raggiungere lo stesso livello di ragionamento degli uomini liberi. e la trattazione di questo argomento Aristotele a un certo punto la interrompe e dunque la interrompe di colpo anche Tommaso. Fa allora una seconda divisione del testo andando oltre e notando peraltro che Aristotele non si scusa affatto né riprende in nessun modo la trattazione interrotta, va a parlare di quello che deve essere appunto il dialogo in famiglia. siamo al numero 1260b8 del testo aristotelico. Tommaso ci fa vedere che Aristotele inizia osservando che quando si affronterà il tema delle forme di regime politico cioè della polis della città sarà d'obbligo trattare della vietù della donna e dell'uomo così come anche quella del padre e dei figli e occorrerà pure analizzare il loro modo di stare insieme cioè il colloquio e il dialogo che deve esistere dice tra i vari membri della famiglia e in che modo ottenere ciò che è buono ed evitare ciò che è male. Nota subito Aristotele tratto molto importante che la famiglia è una parte della città ed espone le due ragioni per cui la trattazione va collocata all'interno delle costituzioni politiche. La prima è che la disposizione della parte va determinata in relazione al tutto come la struttura delle fondamenta va calcolata in relazione alla casa che si vuole costruire. Ora la famiglia è una parte della città che costituisce il primo punto di riferimento in queste due comunioni cioè del padre con il figlio e del marito con la moglie e di conseguenza l'educazione dei ragazzi e delle mogli va elaborata tenendo conto della costituzione. C'è un'importanza delle donne e dei ragazzi. quegli elementi ci fa notare Tommaso la cui disposizione era differenziata nella bontà della città e vanno trattati specificatamente nell'ambito delle costituzioni e quindi rientrando in questa categoria anche quelli che sono i processi educativi dei giovani dei ragazzi e delle donne in modo che entrambi si comportino bene non bisogna dimenticare che le donne costituiscono diceva Aristote la metà delle persone liberi di cui è fatta la città e gli uomini hanno il potere politico e quindi i giovani sono importanti perché soprattutto quelli maschi saranno a loro volta poi quelli che prenderanno nella polis il potere politico di conseguenza si capisce la formazione dei figli e delle mogli va trattata nell'ambito delle costituzioni politiche di più dice proprio Aristotele e Tommaso lo sottolinea che l'educazione deve ispirarsi alle costituzioni politiche e continua a fare un elenco di argomenti che rimangono da affrontare ma che mette lì e rileva Aristotele che esaurita la trattazione della tematica precedente il resto andrà analizzato in un altro contesto che è appunto quello delle forme di governo che viene poi nel secondo libro e dunque ponendo fine alla considerazione sulle famiglie che rimanda ripetiamo ad una analisi strettamente inerente le forme della politica e le costituzioni lo farà però elaborando prima quella che è la costituzione ottimale Aristotele sempre Tommaso seguirà fedelmente questa linea espone un problema ne vuole fornire la soluzione ma per fornirla in definitiva in maniera del tutto completa attende di spiegare bene quelle che sono le premesse logistiche anche per poi darne una comprensibile validissima ragione finale di spiegare di spiegare